Questa sera siamo venuti qua a dare il mio sostegno a Elaina Riccardi, consigliera uscente di Possano, che noi speriamo di vedere il sindaco molto presto, se lo merita. Credo che abbia fatto un'esposizione che rappresenta proprio quelli che sono i valori del Movimento 5 Stelle. Ho detto nel mio intervento che se mi fosse candidato sindaco mi sarebbe piaciuto fare un intervento come il suo. Io arrivo, sono fresco dalla recente manifestazione di Ivrea, il SUM della Fondazione Casaleggio, si è parlato di futuro, di capire il futuro, io credo che Elaina veramente possa rappresentare il futuro per una città come Possano.